nonostante il covid si chiude un anno di crescita per le imprese muore in scooter il vigile del fuoco pesarese alex eusepi piazza del popolo via libera al rifacimento della pavimentazione sport 4 contagiati da covi 19 nella vispesaro buonasera buonasera a voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale della sera che in questo appuntamento di martedì 4 gennaio apriamo occupandoci di economia e lavoro sono infatti incoraggianti i dati di crescita che emergono dalla tradizionale conferenza di inizio anno della cna di pesaro urbino che chiude un 2021 in ripresa per quello che riguarda i numeri dell'occupazione sul territorio della nascita di nuove imprese e soprattutto delle esportazioni come di consueto la cna di pesaro urbino apre l'anno nuovo tracciando un bilancio su quanto prodotto in termini numerici dal comparto aziendale e imprenditoriale pesarese nel 2021 appena archiviato gettando uno sguardo sulle prospettive del 2022 un anno che ha convissuto con la pandemia come dovrà conviverci quello appena cominciato a conviverci hanno già imparato le imprese pesaresi di cna producendo numeri di crescita quelli illustrati oggi all'interno dei capannoni della bmg azienda dedicata alla meccanica di precisione situata a pesaro in via iesi il 2021 è stato un anno positivo per l'economia del nostro territorio lo abbiamo visto in maniera eclatante con i dati dopo un 2020 assolutamente fermo per la pandemia il 2021 è ripartito bene soprattutto trainato dalla manifattura nel nostro territorio dai settori della meccanica del legno della nautica che hanno praticamente trascinato dietro di sé tutto l'indotto altamente tecnologico di cui dispongono che proprio è basato nella nostra provincia questo ci ha permesso di fare dati di export straordinari addirittura più del doppio di quelli fatti dalla regione marca intera nella provincia di peso urbino più 26 per cento di export nei primi nove mesi del 21 rispetto ovviamente all'anno precedente ci danno la fotografia chiara che i nostri imprenditori hanno reagito ovviamente questa ripresa ha tutte le caratteristiche per essere nei prossimi anni più strutturale con i soldi che arriveranno dal PNRR e se saremo in grado di scaricare a terra in maniera giusta i progetti che dovremmo fare però ci sono alcune spade di Damocle che ci preoccupano un po' il primo è il fatto che ancora siamo in mezzo alla pandemia non è un caso no? Ancora ci facciamo anche le interviste con le mascherine, l'FP2 poi adesso la seconda cosa è la difficile reperibilità delle materie prime e il costo enorme che queste materie prime per chi le trova hanno in questo momento che è difficile poi ribaltare sul consumatore finale in maniera immediata e quindi grave preoccupazione. Ci sono imprenditori che per tutto il 2022 hanno commesse ma non riescono a partire per i lavori per questo motivo e non sanno garantire la data in cui partiranno in più nel nostro territorio noi dobbiamo risolvere un problema tavico che in questo momento è fondamentale se non lo risolviamo adesso sarà difficile poi farlo in passato che è quello delle infrastrutture materiali e immateriali, siamo indietro, siamo sotto certi aspetti isolati e questa è una situazione che non è più compatibile con quello che dovrà essere la ripresa nei prossimi anni del nostro territorio e delle nostre economie. Indicatori di crescita per esportazioni e occupazione con un importante saldo attivo di 194 imprese in più nel bilancio fra aziende nate e chiuse nel 2021. Un più 0,6% provinciale superiore a un più 0,1% regionale così come spicca un più 26% di export rispetto a un più 12% di crescita regionale. Esportazioni orientate soprattutto su Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti. Forte l'aumento anche verso Emirati Arabi e Sudafrica. In calo solo le destinazioni verso Cina e Arabia Saudita. Numeri che sono stati in materia di riflessioni per il neopresidente provinciale Michele Matteucci successo a otto anni di presidenza di Alberto Barilari, ora presidente onorario. Sono cambiati gli operatori perché il settore primario cede, quote, mentre ne acquistano molto le costruzioni, il terziario, quindi ci stiamo evolvendo su questo punto di vista. Per quello che riguarda le costruzioni abbiamo avuto un bel balzo in avanti, questo è dovuto anche sicuramente a tutti i bonus che ci sono stati posti in atto. L'importante è da sapere comunque che noi abbiamo due problematiche grandi che bisogna cercare di risolvere e chiediamo anche alla politica di aiutarci da ragionare. Prima di tutto è creare un ambiente di sicurezza e fiducia per quello che riguarda la pandemia. Noi ancora siamo dentro purtroppo della pandemia che non ci permette di cogliere a pieno la ripresa perché tra le restrizioni e il non poter lavorare a pieno come si potrebbe fare in tempi di normalità, questo ci tarpa le ali. Dall'altra parte i costi della materia prima che rimangono un vero problema. Chiediamo un'attenzione precisa su quello che saranno gli investimenti legati al PNRR e in particolare chiediamo che col PNRR si arrivi a sviluppare quelle infrastrutture materiali e materiali senza le quali noi non potremmo avere lo sviluppo che ci aspettiamo. Al tavolo della CNA questa mattina anche il presidente della Camera di Commercio Marche Gino Sabatini che in questa intervista ci offre una prospettiva sulla internazionalizzazione delle imprese provinciali e sull'importanza del lavoro di squadra in questa fase tra economia e politica in vista dei fondi in arrivo dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Su alcuni settori l'internazionalizzazione è importantissima, su altri tipo la moda abbiamo delle difficoltà perché alcuni paesi stanno continuando a chiudere su alcune fiere, però oggi come oggi dobbiamo allargare la nostra visione sul mondo per vendere i nostri prodotti. Abbiamo visto che siamo leader sul turismo con il nostro CT Mancini e è andata benissimo l'idea che ha avuto Acquaroli su questo testimonial. Abbiamo visto che l'accordo portato avanti con il vicepresidente Carloni sull'internazionalizzazione ha favorito al massimo il mondo imprenditoriale su questa linea dell'internazionalizzazione. Oggi dovremo essere molto attendi sul virus, però dovremo riconquistare questi mercati. Alcune fette, tipo la meccanica, il mobile, l'acqua alimentare o le materie plastiche, hanno recuperato. Sulla settore moda dovremo essere molto attenti e aiutarli perché ancora questo settore ha bisogno di sostegni per far sì che possano recuperare al meglio tutti quei paesi e quelle fette di mercato dove le nostre aziende erano leader. Perciò ecco, lo sforzo che metteremo in gambo a fianco della regione Marchi, a fianco dell'assessore Carloni o del presidente Acquaroli, è proprio questo ecco, essere diciamo fautori di un collegamento fra il mondo imprenditoriale e le istituzioni per mettere a terra il prima possibile i fondi che arriveranno. Tragedia nella notte in pieno centro storico a Pesaro dove è morto per un incidente stradale in scooter il 38enne Alex Eusepi, vigile del fuoco, molto conosciuto in città anche per il suo impegno da consigliere di quartiere di Villa Fastigi, Villa Ceccolini, nel Partito Democratico di Pesaro, nell'Associazione Culturale Periferica e come parte attiva dei lavori in corso per la candidatura di Pesaro a Capitale della Cultura 2024 attraverso il suo impegno nel quartiere 4. In tantissimi, anche attraverso i social, hanno ricordato oggi Alex al rimbalzo, purtroppo, della tragica notizia. Eusepi è incappato in un incidente attorno alle 2.30 di notte in Piazzale 1 maggio dove ha perso il controllo dello scooter battendo violentemente la testa. Inutili soccorsi del 118 che l'hanno trovato a terra senza vita a causa di un letale trauma cranico. Sono in corso accertamenti per chiarire cause e dinamica dell'incidente. Continua a rimanere sostenuto il ritmo di contagi nella regione Marche con altri 1.606 casi registrati nella giornata di oggi. Tantissimi nell'Anconetano 661, molti meno in provincia di Pesaro e Urbino 89. Stabili i dati sui ricoveri con 288 pazienti in degenza, cioè due più di ieri, di cui 53 in terapia intensiva, ovvero uno in meno di ieri. Anche oggi purtroppo nelle Marche si contano 5 decessi, 4 donne e un uomo di età compresa fra 70 e 89 anni. La prefettura di Pesaro e Urbino ha pubblicato oggi il report dei controlli sulle normative anti-covid in provincia dal 6 dicembre, data che ha visto l'entrata in vigore del Green Pass rinforzato per la produzione dei servizi, fino allo scorso 2 di gennaio. Un arco temporale in cui sono state controllate ben 24.422 persone e sono state contestate 149 violazioni. Nello stesso periodo sono stati controllati 2.224 esercizi commerciali con 33 illeciti ai relativi titolari. Sono state anche denunciate due persone per inosservanza del divieto di quarantena. E parliamo ora di lavori pubblici perché sta per partire il rifacimento della pavimentazione di Piazza del Popolo. Un lavoro di restyling nel cuore del Centro Storico Cittadino che ci viene illustrato nel prossimo servizio. Pesaro parte dal suo cuore per allestire uno dei primi cantieri del 2022. La riqualificazione di Piazza del Popolo, già approvata lo scorso novembre, è pronta a partire dalla seconda metà di gennaio, con un'attenzione focalizzata su un selciato e una pavimentazione vetuste ammalorate da sottoporre a restyling. Un lavoro concertato con soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle Marche e con Marche Multiservizi che ha portato in giunta comunale l'approvazione di uno stanziamento di 600.000 euro per un'opera che sarà svolta in diversi step per non sovraccaricare di cantieri l'area cittadina centrale per la passeggiata e il commercio. Enzo Belloni, il cui assessorato in questo 2022 lascia la delega a nuove opere e manutenzioni a Riccardo Pozzi, illustra un'opera da lui seguita nella gestazione iniziale. Dal punto di vista estetico e architettonico non cambierà nulla, il materiale da usare, il disegno della piazza dovrà rimanere quello e abbiamo anche coinvolto Marche Multiservizi rispetto alla situazione dei sottoservizi perché ci sono tratti dove loro avevano in progetto di intervenire e questa è l'occasione per prendere due piccioni con una fava, nel senso sistemiamo la piazza e sistemiamo anche i sottoservizi della piazza dove succede che ogni tanto si verificano delle piccole rotture. La piazza del popolo è diventata, ed è sempre il cuore di una città la piazza. La piazza del popolo in particolare negli ultimi anni ha avuto un sacco di eventi e continueranno ad esserci quindi ci piaceva pensare che era arrivata il momento giusto per riqualificarla, magari mantenendo lo stesso disegno però modificando le panchine e quello che la renderà in qualche modo caratteristica e che caratterizzerà la città. Domani, mercoledì 5 gennaio, partono i saldi invernali nelle Marche. Da domani dunque in tutti i negozi della regione ci sarà l'opportunità di usufruire di prezzi scontati così come le attività commerciali e regionali sperano in un buon afflusso dopo un Natale trascorso piuttosto in sordina. Si avvicina l'epifania e dunque parliamo di presepi. Le foto che vi mostriamo si riferiscono infatti al presepe diffuso del quartiere 9 realizzato grazie alle donazioni delle sagome in compensato dipinte di Suortina del convento di Ginestreto e grazie anche al lavoro generoso dei ragazzi della cooperativa T41 che si sono fatti carico degli allestimenti e della realizzazione della copertura in legno per riparare il presepe dalle intemperie. Presepi allestiti alla scuola Mascarucce, la scuola elementare di Santa Maria delle Fabrecce e al parco della Forestina che è stato anche abbellito da un alberello in legno con i disegni dei bambini della scuola elementare Cantarini. Il coro San Carlo di Pesero compie 40 anni e apre le sue celebrazioni per questo importante anniversario con il tradizionale concerto dell'Epifania che si terrà domani 5 gennaio alle 17 nel Salone Metaorense della Prefettura di Pesero. 40 anni di musica dal 1982 ma non solo ma questo è il concerto dell'Epifania che permette al coro San Carlo di ripresentarsi alla città dopo aver purtroppo saltato l'edizione 2021 e quindi quest'anno la festa è doppia diciamo perché ritornare a offrire alla città di Pesero il concerto dell'Epifania per il coro San Carlo è sempre stato un grande onore, un grande piacere insomma ritrovare il proprio pubblico. Naturalmente da parte nostra l'impegno è stato di fatto da settembre nel ricominciare con tanta anche resilienza, tanta come dire convenzione che la musica a volte anche ci permette di coltivare la bellezza in un momento così particolare che viviamo quindi l'impegno è di crederci fino in fondo e naturalmente non potremmo essere arrivati a questo punto senza naturalmente anche l'intervento di chi ci sostiene quindi Otti Cacciaroni, la banca di Pesero e tutti noi, tutto il nostro consiglio direttivo e tutti quelli che nel coro San Carlo tenacemente, prova dopo prova insomma hanno continuato a lavorare con tanta determinazione. Un evento che la banca è stato subito sponsorizzato è stato vicino all'evento in quanto le persone che l'organizzano sono veramente persone importanti, persone serie che si impegnano forse in un settore più colpito dalla pandemia. Speriamo che questo sia di auspicio e soprattutto di buon anno un 2022 più sereno e con un entusiasmo in più da parte delle persone. Quindi sarà in un certo senso una prima parte, un the best of quasi quindi il meglio del meglio abbiamo preso del nostro repertorio sia più classico, quindi con tante pagine anche note ma anche sempre con tante pagine originali ossia musiche che per la prima volta verranno eseguite a Pesero di autori di varie epoche e quindi non mancherà naturalmente un primo omaggio a Rossini poi ancora Mozart e poi via via arrivando verso pagine anche più elaborate più difficili, qualche tocco anche di opera lirica. Il coro San Carlo già da tantissimi anni è diretto dalla bacchetta sicura del maestro Salvatore Francavilla e ormai siamo a 15 anni di collaborazione del coro San Carlo quindi è un grande privilegio per noi accompagnata al pianoforte dal maestro Giorgia Borgacci. Il concerto sarà il 5 gennaio quindi alle 17 al Salone Metaurense previa presentazione di Green Pass e prenotazione telefonica composta non obbligatoria. Lo sport continua a fare i conti con il Covid-19 ora il virus è entrato anche nello spogliatoio della Vispesero come ci spiega questo servizio. Il Covid-19 entra anche nello spogliatoio della Vispesero. L'amara sorpresa al rientro agli allenamenti di inizio anno arriva al primo screening di tamponi di squadra dove sono emersi due casi di positività al virus fra i calciatori e altri due casi all'interno dello staff tecnico. La Vis aveva chiuso l'anno fra le poche squadre esentate da contagi ma ora anche Pesero deve fare i conti con un panorama poco rassicurante in una Serie C che al primo giorno dell'anno ha deciso di rinviare l'intero primo turno delle 2022. quello che era in programma sabato 8 gennaio e che è stato posticipato al 2 febbraio. Lo sguardo per la Vispesero si sposta dunque dalla rimandata trasferta di Pontedera al debutto casalingo col Pescara del 15 gennaio. Un Pescara che quasi in simultanea alla Vis ha annunciato ieri sera la positività al Covid di tre suoi calciatori. Attualmente dunque i contagi hanno messo piede in più di metà degli spogliatoi delle squadre di Serie C dove come a Pesero tutta l'attenzione si proietta sulla sequenza di tamponi ripetuti incrociando le dita che la situazione di contagio non si allarghi a macchia d'olio portando ad altri rinvii. E con questo servizio di sport si conclude il nostro telegiornale di oggi Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo la nostra prima serata in questo martedì 4 gennaio. L'appuntamento è quello col nostro speciale realizzato in merito all'evento conclusivo di Tocca a me. Questa sera alle 21 dunque si vedrà l'atto conclusivo di un progetto con il quale è stato vinto un bando regionale durato un anno che ha coinvolto associazioni e enti cittadini di cui Ale Muraglia è stato ideatore, promotore e capofila. vedremo lo speciale realizzato da Paolo Pagnini al centro socioculturale Salice-Gualdoni di Via Petrarca. L'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina alle 7.20 come sempre da lunedì al sabato in diretta con Buongiorno Rossini la rassegna stampa della provincia di Peso Rubino che domattina sarà condotta da Antonio Astuti. E invece si conclude qui questa nostra edizione del notiziario Rossini News. Ora vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.